E' da qualche ora che non sentiamo l'orso Se ne sarà andato No, penso di no Se ha ucciso quei pescatori, credo l'abbia fatto Ha assaggiato il sangue umano Non se ne andrà da qui No, penso di no No, penso di no Non dorme mai Ma quando la smettere? Quando sarà entrato? Gage ha bisogno di cure mediche Sì, lo so Cercherò di arrivare in città L'orso potrebbe avere qualcosa in contrario Vediamo dov'è Se ne è andato Puoi farlo davvero? Purtroppo non ho altra scelta Ricorda quello che ci hai detto Tieni gli occhi aperti Non batterò ciglio Non l'aveva detto Gage Sì, infatti Purtroppo non ho altra scelta Ranger Gage Ho visto qualcosa Dove? Laggiù Rettender Forse è il loro accampamento Chris, puoi portarci giù? L'orso potrebbe avere una scelta Questa è il loro accampamento L'orso potrebbe essere Questa è la scelta Questa è la scelta Questa è la scelta Grazie a tutti. Grazie a tutti.